Salve a tutti e bentornati all'Angolo della Libraia. Oggi parliamo del misteri, l'eredità di Miss Westway di Ruth Weir. Ruth Weir è nata a Lewis in Inghilterra nel 1977. Ha studiato letteratura all'Università di Manchester e poi ha svolto moltissimi lavori, fra cui cameriera, libraia e pubblicista. Inoltre ha insegnato inglese durante un lungo soggiorno a Parigi. Ha esordito come scrittrice nel 2013 e con lo pseudonimo di Ruth Marbuton ha firmato 5 fantasy per ragazzi. Nel 2015 invece ha pubblicato con il suo vero nome il suo primo thriller L'Invito, cui sono seguiti la donna della cabina numero 10 del 2016, il gioco bugiardo del 2017 e l'eredità di Miss Westway del 2018. Tutti e quattro i suoi gialli hanno riscosso grande successo di pubblico e di critica. Infatti molti l'hanno paragonata da catacristi. Ha vinto numerosi premi e di tre dei suoi libri sono già stati opzionati i diritti cinematografici. Oggi la Weir vive a Brighton con la famiglia. Veniamo al romanzo. Pur essendo cresciuta con una madre single e senza grosse disponibilità economiche, Harriet Westway, detta Hull, è stata felice dalla nascita fino ai 18 anni, quando è rimasta orfana e completamente al verde. A quel punto ha dovuto lasciare la scuola, ha iniziato a lavorare come chiromante al mollo di Brighton e si è impegolata con degli strozzini. A poco meno di tre anni di distanza la sua situazione non è migliorata e l'usuraio è arrivato a minacciarla fisicamente. In questa circostanza così delicata Hull riceve però una lettera che potrebbe offrirle una facile scappatoia dai suoi problemi. Un avvocato della cornovaglia l'ha infatti convocata nella tenuta di Treppassen come erede della fortuna di Mrs. Westway, sua nonna. Hull è consapevole che debba trattarsi di uno strano caso di omonimia, ma è così disperata che decide di tentare il tutto per tutto e di provare a fingersi effettivamente l'erede legittima. Parte dunque per la cornovaglia e si ritrova insieme ai presunti fratelli e i nipoti di sua madre. Contro ogni aspettativa e nonostante l'enorme disagio che ha al prova dovendo mentire, il suo inganno pare funzionare. In effetti i punti di contatto tra la sua presunta madre e quella vera sono molti, forse troppi. È poi certo che Hull non abbia alcun legame con quella famiglia tanto ricca quanto infelice? E se invece il legame esiste, perché sua madre si è sentita in dovere di mentirle? Che segreto nascondono i Westway? Dunque, il nuovo libro della Weir è una via di menzo fra un giallo, un thriller ed un misteri. Rispetto all'ambientazione e per l'atmosfera che si respira per tutta la prima parte del romanzo, lo si potrebbe classificare come giallo. Per quanto riguarda invece l'intreccio, il racconto ricorda prima un misteri e solo in un secondo tempo sfoce in un thriller, quando si avverte davvero la pericolosità della situazione. La mescolanza di generi comunque non pennanizza minimamente la narrazione, che, eccezione fatta per la lentezza dei capitoli iniziali, procede poi spedita ed avvincente, forte di uno stile piacevole e di personaggi ben costruiti. La sola nota negativa, a mio parere, è la scelta di coinvolgere la protagonista con il mondo dei tarocchi, che invece che rafforzare la sensazione di tragedia imminente, tendono a ridicolizzare le sensazioni e le emozioni che serpeggiano per tutto il racconto. Per me questo è stato il primo Weir. Recupererò di sicuro presto i romanzi più vecchi. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci ritroviamo presto qui all'angolo della Libraia. Ciao!